Calenda. Spero tanto che Gelmini e Carfagna vengano con noi. Da Ascolta la notizia. Gelmini e Carfagna avverranno con lei? Lo spero tanto. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di azione, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Quanto alle alleanze in vista del voto, l'ex ministro ha avvertito. Noi andremo con chi condivide il programma che presenteremo. Ma non andremo con chi vuole fare un'alleanza contro la destra, che non significa nulla. Lo dico serenamente al PD. Sono 30 anni che si fanno le campagne elettorali contro qualcuno senza presentare programmi e senza poi essere in grado di gestire il paese, fare politica così non ha senso.